Ciao a tutti, video velocissimo, approfitto della manna dei bambini per mostrarvi gli acquisti di oggi per mamma e bimbi. Allora, OBS, i completi di fagottino, per il mio bimbo ho preso questo completino con maglietta e calsuncino da mettere tutti i giorni, 7,99€, molto grazioso, molto comodo e per la mia bimba ho riacquistato questi body, 8,99€ due body, semplici appunto con i bottoncini qui sotto, con queste spalline molto fini perché sono adatti per i vestitini da bimba. E poi ho preso una serie di calzine, così, queste qua con il blu, queste con il rosa, immancabili ormai, e queste qui bianche, molto semplici. La location ovviamente improvvisata è solo per mostrarvi questi acquisti, questi appunto da OBS perché secondo me hanno un buon rapporto qualità-prezzo, quindi una buona qualità con un prezzo, insomma, ragionevole. Questo per i bimbi. Poi, per la mamma, allora, innanzitutto, a me non piace molto mostrare l'intimo, ma sono andata da intimissimi, e ho preso un reggiseno che è questo, di questo color avorio, con il ferretto perché appunto è necessario un po' di sostegno, però comunque morbido, che mi permette di allattare, evitando un pochino i soliti reggiseni, insomma, ad allattamento che sono tanto comodi, ma non sono proprio bellissime, avevo voglia di qualcosa di un po' più particolare. E, sempre da intimissimi, ho preso poi, c'è una promozione, ma non mi ricordo quanto sia lo sconto in realtà, la trovate anche sul sito, in ogni caso, ho preso le classiche mutandine, in cotone con un po' di pizzo, che si abbinano a questo reggiseno, quindi, ecco, la taglia è un po' grande, come vedete, perché qualche chino, insomma, è rimasto. Sempre da intimissimi, ho preso delle magliettine, un po' da portare tutti i giorni, che sono però un po' più graziose rispetto alle classiche magliettine di cotone, che vi avevo mostrato un po' da tutti i giorni, che avevo preso da Echener. Allora, innanzitutto, questa, di questo colore meraviglioso, spero che renda un attimo con questa fotocamera, perché la Nikon non riesco ad utilizzarla, questo effetto sembra quasi raso, dietro, appunto, maglina, molto morbida, sotto ha una specie di leggera, rimane, ecco, un po' più morbida, nasconde un po' di pancia, e ha i bottoncini, permette di allattare, questa, 30 euro, però, insomma, è graziosa. Poi ho preso una magliettina azzurra, sempre da intimissimi, che è questa, 19,90, Anche questa sbracciata, anche questa molto semplice, con questa, appunto, particolarità dell'apertura su davanti, nasconde un pochino la pancia, rimane un po' più morbida, e, come vedete, è abbastanza morbida per poter allattare. Questi sono capi che, ovviamente, si possono sfruttare in qualsiasi momento, e che consiglio anche alle, insomma, amiche che mi seguono, perché non è necessario, insomma, considerarli capi per l'allattamento, ecco. Oltretutto, le magliettine di intimissimi, io le utilizzavo anche in gravidanza, come quelle di Tezenis, e alcune le ho sfruttate poi anche successivamente. Quest'altra, 25,90, è deliziosa, secondo me, perché, appunto, è, diciamo, sportiva, con questo grigio che la rende un po' semplice, però poi, invece, davanti ha questo tocco di beige, è molto morbida, va giù dritta, e quindi nasconde la pancia. E, ovviamente, essendo colori abbastanza semplici, sono anche molto facili da abbinare. Poi ho preso questa bianca, anche questa un po' per tutti i giorni. Eccola qui, 25,90, con questa taschina, quindi un po' più sportiva, con la manichetta, ma molto piccina, questo grande scollo, questa è carina da portare anche magari sopra un'altra canotta, oppure con una specie di, insomma, un bustino, una magliettina un po' ridotta, ma, insomma, ci sono tanti modi per abbinarla anche con qualcosa di più colorato. E poi ho preso questa, che è un po' più sfiziosa, fa parte già della collezione autunnale, ha la mezza manica e ha questo bello scollo utile per le mamme, ma, insomma, sottolinea anche il décolleté, può essere portata con una faccia, con un bel reggiseno, insomma, è molto graziosa, qui sotto, vedete, è fatta in questo modo, e 25,90, anche questa è molto carina, poi, da vedere indossata. Poi, ho preso da prenatal, ma queste invece sono magliettine da mettere, proprio tutti i giorni, un po' da battaglia, queste magliettine che sono specifiche per l'annattamento, e sono questa blu, vedete che ha l'etichetta Milk Time, quindi queste sono coppie specifiche per l'allattamento, e ha questo tipo di apertura, quindi si può allattare il bimbo aprendo soltanto la parte alta della maglietta, il segno rimane comunque leggermente coperto, l'ho presa blu, semplice, questa l'ho pagata, 17,99, e poi ho preso questa, di questo color verde chiaro, con queste ruche piccoline, che sottolineano un po' la scollatura, per avere qualcosa, insomma, un po' diverso, perché io poi di solito acquisto in serie, quando trovo qualcosa di semplice, poi acquisto tutti i colori. Questo è tutto, per gli acquisti mamma e bimbi, ci vediamo presto, ciao ciao!